Non ce la posso fare, perché... Un secondo, un secondo. Sì, ma devo rimanere... Sì, 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 vieni, vieni però, un secondo. Oh, cominciate a cacciare il grano! Che c'è da pagare! Dai, no, 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 no... Non posso avvicinarmi, dunque... No, non ti avvicini! Ma non posso neanche mangiarlo, eh? Come no? Guarda, perché siamo tutti... No, mi piacerebbe, ma non posso, veramente, mi dispiace. Mi dispiace, non posso prendere i rischi. No, no, no... No, solo per voi, dai! Solo per voi! Grazie! Un saluto! Che finisciamo qui?